... Voglio farmi una pista a San Mauro Voglio farmi fotografare nei bagni del mondo Perché non è per Elisabetta Franchi? Quando potrei fare partiti in Cosa Smeralda? ... ... ... ... ... ... Perchè lavorare non consentono quando sono così brava ad aprire il culo? Perchè lavorare non consentono quando sono così brava ad aprire il culo? Perchè lavorare non consentono quando sono così brava ad aprire il culo? Tutto ora, tutto vero, tutto dentro, tutto è nero Tutto ora, tutto vero, tutto dentro, tutto è nero Tutto ora, tutto vero, tutto vero, tutto vero, tutto vero Tutto ora, tutto vero, tutto vero Grazie 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 Grazie